Buongiorno, oggi è qui con noi la signora Concetti Noira di Civitanova Marche, una serata e rappresenta l'autotrasporti Concetti, benvenuta a Moira. Buongiorno, benvenuta anche a lei, nella nostra società. Io le volevo parlare della nostra azienda che è un'azienda di trasporti che ormai è da 40 anni che siamo sul mercato diciamo è un'azienda che è partita da nostro padre e poi abbiamo proseguito noi, siamo tre fratelli e abbiamo portato avanti questa attività, sempre con tanta passione, con tanto sacrificio e diciamo siamo partiti con pochissimi camion, uno all'inizio mio padre, due, poi tre, insomma adesso abbiamo più di 20 automezzi e abbiamo conosciuto Traspo Bank, tramite dei colleghi dove anche loro avevano difficoltà magari di vendere carichi o di cercare carichi e tramite questi colleghi ho voluto anch'io approfondire questa cosa e abbiamo attivato questa piattaforma. Noi la utilizziamo soprattutto per la vendita dei carichi perché attualmente e fortunatamente abbiamo diversi carichi che non riusciamo a sopportare con i nostri mezzi e quindi ci avvaliamo di questa piattaforma che è molto valida, seria. Traspo Bank secondo me è una piattaforma che ormai è tanti anni che è sul mercato e poi c'è molta serietà e ci troviamo molto bene e siamo felici perché comunque la utilizziamo giornalmente e siamo contenti veramente. Vuoi sapere anche tu qualcosa di più della banca di Traspo Bank? Allora contattaci allo 02 20 57 11 oppure visita il nostro sito www.transpobank.it